Ho intitolato questo breve video, le carte di Trump. In politica puoi aspettarti quello che non pensi. E quando Donald Trump vinse le elezioni presidenziali americane, il mondo venne preso di sorpresa. In politica siamo presi di sorpresa, ma nelle profezie abbiamo certezze. Quando guardiamo alla visione profetica del libro dell'Apocalisse, possiamo vedere che c'è un piano e c'è un movimento in una direzione particolare. E anche se sembra confuso, e qualche volta non si comporta come si pensa, il piano verrà adimpiuto secondo la visione profetica. In Apocalisse leggiamo che la seconda bestia formerà un'immagine alla prima bestia. I protestanti identificano la prima bestia come il sistema papale. Nel contesto protestante, ai tempi di Wesley, si aspettava l'apparizione della seconda bestia. E l'unica che adempie tutti i criteri della seconda bestia sono gli Stati Uniti d'America, che faranno un'immagine alla prima bestia. Noi sappiamo che la prima bestia fu un sistema politico-religioso che dominava gli eventi del mondo e gli affari mondiali. Quindi il secondo sistema sarà uguale, dove politica e religione si mischieranno e nel processo eleveranno la prima bestia. Lo scenario profetico dice questo. E qualche volta, guardando lo scenario storico, sembra accadere l'opposto. JFK disse «Credo in un'America dove la separazione tra Chiesa e Stato è assoluta, dove nessun prelato cattolico dirà al Presidente, dovendo essere cattolico, come agire, e nessun ministero protestante dovrebbe dire ai suoi parrocchiani a chi votare, dove non è garantito a nessuna chiesa o scuola di chiesa nessun fondo o preferenza economica, e dove non è negato un pubblico ufficio a nessuno solo perché la sua religione è diversa da quella del Presidente, che lo può nominare o la gente che lo può eleggere. Credo in un'America che è ufficialmente né cattolica, né protestante o ebrea, dove nessun pubblico ufficiale richiede o accetta istruzioni su linee di condotta pubbliche, dal Papa, dal Concilio Nazionale delle Chiese o ogni altra fonte ecclesiastica, dove nessun corpo religioso cerca di imporre il suo volere direttamente o indirettamente sul popolo o gli atti pubblici dei suoi ufficiali. E quando le libertà religiose sono così indivisibili che un atto contro una chiesa è visto come un atto contro tutte le chiese. Quindi Kennedy si batteva per la separazione assoluta di chiesa e Stato. Ora, la profezia deve adempiersi, quindi questa situazione deve cambiare, perché l'immagine deve essere come l'originale. E l'originale fu chiesa e Stato che comandavano la moralità alla società. La seconda bestia deve diventare un'immagine e fare le stesse cose. Credo che una delle ragioni per cui Kennedy fu assassinato era perché credeva a questo principio, tra cui altre cose che fece, tra cui toccare la Federal Reserve eccetera. Sotto i due partiti degli Stati Uniti sembra che ci sia lontana verso un sistema o verso l'altro, ma questo non è il caso. Quigley, che era un professore, nel suo libro Tragedia e Speranza disse parlare di due partiti dovrebbe rappresentare idee e linee di condotta opposte, magari una alla destra e l'altra a sinistra. Sono una stupida idea accettabile solo per pensatori indottrinati e accademici. I due partiti, invece, dovrebbero essere quasi identici in modo che, ad ogni elezione, il popolo americano può buttare via i mascalzoni senza guidare nessuna profonda variazione nella condotta. Le linee di condotta vitali e necessarie per l'America non sono soggette ad un significante disaccordo, ma si possono discutere nel dettaglio della procedura, priorità o metodo. In altre parole, dice che i due partiti sono lì solo per calmare il popolo, ma la direzione generale sarà uguale. Il burattinaio dietro le scene controllerà gli eventi come vuole. Alcuni dei burattini possono non accorgersi di cosa accade perché controllati dal burattinaio e qualche volta possono essere ingannati anche alti ufficiali pensando di fare una cosa mentre ne appoggiano un'altra. Il principio della dialettica hegeliana funziona così. La definizione dice è una struttura per guidare i pensieri e le azioni in un conflitto che guida verso finte soluzioni che possono essere introdotte soltanto quando sono manipolate assumendo che avanzerà il programma predeterminato. Quindi c'è l'opposizione controllata problema, reazione, soluzione. Questo è stato usato per millenni nella sfera politica. Crei la crisi inducendo cambiamenti per portare le direzioni che vuoi che tutti prendano. Ma per poterlo fare devi incanalare la mentalità generale in una direzione particolare. Assumiamo di voler istituire un particolare programma religioso e sai che la società non lo vuole fare. Puoi inserire questa dialettica portando una visione opposta portando una visione opposta che diventa totalmente inaccettabile per la popolazione che viene forzata nell'accettare la tua soluzione cosa che non avrebbero accettato se avessero potuto scegliere. Questo è un mezzo di controllo mentale di massa. Quando guardiamo all'alleanza di Obama questo diventa chiaro. lui ha detto che Trump non è adatto a fare il presidente e Donald Trump usava tutti i fallimenti delle passate amministrazioni per evidenziare i suoi punti. Se guardiamo al mondo è nel caos i rifugiati urlano dappertutto le bombe esplodono l'Isis è fuori controllo e ogni problema gira nelle menti delle persone e li guida in una particolare direzione dove vogliono proteggersi da queste ondate di malvagità che sbattono sulla società e magari facendo proprio quello di cui parla la profezia cosa che non avrebbero fatto se le circostanze fossero state diverse. Qual è l'alleanza di Obama e Hillary Clinton? È solo un'agenda liberale. Abbiamo visto molti cambiamenti nella società con molte nuove leggi dove la moralità cristiana sembra essere decimata sparita affinché coloro con un'etica cristiana possano urlare vogliamo cambiare questo mondo non si può andare avanti così e fanno proprio così sposti il pendolo dal liberalismo assoluto su ogni ambito e poi lo fai andare nel lato opposto in modo da avere quello che vuoi è che la profezia predice Obama dice il futuro non deve appartenere a coloro che caluniano il profeta dell'Islam se guardate le pagine web si suppone che quest'uomo fosse un musulmano clandestino e ci sono foto del suo anello che sembra islamico e di foto di lui vestito alla islamica e moltissime dichiarazioni su questo genere se guardate l'amministrazione molti alti ufficiali sono di fede islamica quindi sembra come se le radici cristiane fossero tolte all'america andando in un'altra direzione ma la profezia dice che la seconda bestia gli Stati Uniti d'America faranno leggi per far avanzare la prima bestia che è il cattolicesimo e quindi deve essere una nazione cristiana che produce una legislazione cristiana e qui abbiamo Obama che porta una mentalità in direzione totalmente opposta questa è una brillante dialettica hegeliana sia che lo facesse coscientemente o inconscientemente o subconsciamente non importa importa quello che accade ovviamente credo che l'elite sappia quale sia l'agenda ciò nonostante si lascia aperta l'opzione che lo fanno senza saperlo questa fu l'alleanza di Obama e ora con l'amministrazione Trump vedremo probabilmente il pendolo cambiare Catholic Herald Obama chiama le guide mondiali di far attenzione ai messaggi di Papa Francesco il presidente degli Stati Uniti ha detto che vuole che i suoi compagni le guide mondiali riflettano sull'enciclica di Papa Francesco parla dell'ambiente abbiamo questo pensiero duale da una parte abbiamo un movimento verso un sistema religioso totalmente diverso e dall'altra parte abbiamo questo sostegno del sistema papale e sotto la sua guida abbiamo la visita di Papa Francesco che venne trattato quasi come l'inaugurazione del presidente del mondo che parla dal balcone che è un punto più alto rispetto ad ogni altro presidente quindi abbiamo questo dualismo di pensiero abbiamo l'apparente movimento in una direzione e dall'altra parte la realtà delle leggi che si muovono in un'altra direzione poi avete i due opponenti avete chi si batte per i principi della destra e gli altri che si battono per i principi della sinistra e fu una campagna molto feroce questa è ancora una dialettica hegeliana buon poliziotto cattivo poliziotto due ideologie che si muovono come un pendolo guardiamo alcuni fatti senza giudicare nessuno vediamo a quale conclusione arriviamo qui abbiamo la famosa cena chiamata cena della carità tenuta prima delle elezioni dove abbiamo l'arcivescovo di New York che è il capo dei cavalieri di Malta in America dove ha questa cena con i candidati tra cui verrà eletto il presidente vediamo la natura gioviale ed è proprio la chiesa con lo stato e i due che sorridono vicino al cardinale Dolan è interessante che quando guardiamo alle azioni di questi individui vediamo questa idea di dualismo se prendete il cardinale per esempio il papato dirà una cosa molto conservativa diciamo secondo qualunque cosa stile di vita o contraccettivi il papato il papato dirà una cosa e la gente che deve seguirlo farà proprio l'opposto quindi si è confusi perché i gesuiti e i cavalieri di Malta fanno proprio l'opposto di quello che proclama il papato perché abbiamo questo pensiero doppio sapete nel loro pensiero c'è questo aspetto yin e yang l'apparenza bianca e nera in questa filosofia yin e yang l'uno aumenta l'altro l'uno non esiste senza l'altro quindi abbiamo questo pensiero doppio anche nei ranghi della chiesa come vedremo i due candidati si adattano bene in ogni singolo aspetto se andate nel sito web delle linee di sangue dei presidenti americani è risaputo che tutti i presidenti degli Stati Uniti sono tutti imparentati vediamo cosa dicono i media se tutti i presidenti sono imparentati quale sarà allora il futuro presidente del 2016 sia Trump che Hillary Clinton sono imparentati al reale John de Gaunt del 1300 figlio del re Doardo III Gaunt fu il primo duca di Lancaster secondo My Heritage Trump è imparentato attraverso sua madre Mary Annie McLean sino al suo diciassettesimo nonno John Beaufort mentre Clinton è imparentato attraverso il padre di lei e la famiglia Rodham sino alla sua nonna di diciassettesimo grado John Beaufort i due candidati sono cugini di diciannovesimo grado ed entrambi hanno la giusta linea di sangue per continuare questa linea è un'altra storia sul come sono imparentati ed è affascinante che la Bibbia non parla di presidenti del mondo ma di re del mondo e durante il corso dei secoli non importava quale candidato vinceva perché entrambi i candidati avevano la stessa linea di sangue qui abbiamo la linea di sangue dei presidenti americani è un'altra pagina che lo spiega sapete che tutti i 44 presidenti americani hanno portato sangue reale europeo nell'ufficio 34 sono stati discendenti genetici di una sola persona Carlo Magno il brutale re francese dell'ottavo secolo è una storia affascinante perché Carlo Magno fu incoronato imperatore del impero romano il nuovo impero romano il papa lo incoronava quando il suo regno cadeva a pezzi quindi è un simbolo di questa unità mondiale sotto una guida il papato poi se andiamo da Edoardo III d'Inghilterra infatti il candidato alla presidenza con più geni reali ha vinto in ogni singola elezione americana sembra che Trump e Hillary abbiano esattamente la stessa discendenza quindi non importa chi dei due vince questa informazione viene da Bork Pirage che è la Bibbia della genealogia aristocratica a Londra ogni elezione presidenziale includendo anche George Washington nel 1789 fino a Bill Clinton è stata vinta dai candidati con più geni inglesi e francesi dai 42 presidenti a Clinton 33 sono collegati a due persone Alfredo il Grande re d'Inghilterra e Carlo Magno il monarca francese più famoso quindi va avanti 19 di loro sono imparentati con Edoardo terzo d'Inghilterra e ha 2000 connessioni sanguigne col principe Carlo lo stesso accade con le famiglie dei banchieri americani George Bush e Barbara Bush hanno la stessa linea di sangue la linea di sangue di Percy che prende il nome da Percy quando attraversò l'Atlantico al giorno d'oggi Percy è una delle famiglie aristocratiche britanniche loro furono coinvolti nel complotto della polvere da sparo per distruggere il Parlamento ai tempi di Guy Fawkes questo è affascinante perché fu un complotto gesuita per abbattere il governo protestante negli Stati Uniti quindi abbiamo tutte queste linee di sangue appartenenti a queste persone che abbatterono il protestantesimo ed è un complotto interessante che il burattinaio può fare di nascosto ma ora continuiamo continuiamo Mail Online mostra che i Simpson predicevano la presidenza di Donald Trump e non finì bene l'episodio del viaggio del tempo del 2000 aveva la nazione in pezzi che dipendeva sull'aiuto della Cina ora come abbiamo già visto in altri studi i Simpson oppure gli scrittori dei Simpson sono tutti probabilmente dei membri con molta più conoscenza su quello che deve accadere nel mondo e come alcuni candidati hanno detto in passato se qualcosa ha funzionato nel modo in cui ha funzionato ha funzionato in quel modo perché fu pianificato c'è quell'elemento ma c'è anche un elemento di fortuna nelle loro produzioni i Simpson usano molti simboli esoterici e sono stati estremamente accurati su molti avvenimenti e anni prima hanno predetto moltissime cose che sembrano impossibili o improbabili 11 settembre l'evento distruttivo negli Stati Uniti poi alcune piccole cose 16 anni prima di queste elezioni presidenziali hanno mostrato i loro personaggi nello stesso vestito che indossa Hillary Clinton includendo la collana gli orecchini ed è affascinante che lei vince le prossime elezioni ma secondo lo scenario Donald Trump vincerà le elezioni correnti sono affascinanti le ideologie che si contrastano questo è molto strano questo è fatto nel 2000 e mostra Trump con la sua cravatta la sua giacca tra le bandiere come nella realtà è molto accurato è molto accurato ma diventa ancora più bizzarro perché loro mostrano che Trump e questo è del 2000 Trump saluta la gente scende dalle scale mobili alza la mano e ancora ha la cravatta rossa e il vestito nella realtà 2015 Trump che saluta la gente che scende dalla scala mobile nello stesso posto è molto accurato molto scioccante se questa è pura coincidenza o no è irrilevante alcune delle più bizzarre è interessante la mappa che vedremo tra poco e vedete il personaggio che dice oh no è diventato vero questa è la mappa dove mostrano com'è la distribuzione dei voti ma non è molto precisa perché questa è stata usata in un'altra campagna e non si applica alla precedente comunque è interessante come loro mostrano questa questa mappa ovviamente al presente questa foto è cambiata quindi non la si può usare guardiamo altri fatti perché siamo interessati nelle profezie non ai giochi o alle dialettiche fatte in questo modo National Catholic Reporter ci dice che Mike Pence Vice Presidente degli Stati Uniti è una figura molto potente è un evangelico cattolico rinato le pagine web mondiali ci dicono proprio questa cosa qualche anno fa alcuni dissero che non era possibile essere evangelico cattolico rinato sarebbe stata una contraddizione sarebbe stato impossibile nella mia giovinezza sarebbe stato impossibile ma lo scenario religioso è cambiato e c'è stata un'emersione di cattolicesimo e protestantesimo e oggi questa contraddizione è una realtà quindi un evangelico cattolico rinato dicono che Mike Pence è stato un cattolico molto dedicato era un ragazzo molto dedicato ora vediamo Donald Trump Donald Trump frequentò la Ivy League School vediamo il Washington Post sul suo passato da giovane frequentò la scuola privata Kew Forest School in Forest Hill Queens quando suo padre , Frederick un ricco sviluppatore immobiliare fu nel consiglio del governo problemi di comportamento fece riuscire Donald dalla scuola e in seguito fu mandato all'accademia militare di New York dai suoi genitori sperando che la disciplina della scuola incanalasse la sua energia in modo positivo lì andò bene poi andò alla Fordham University una scuola gesuita nel Bronx quindi Donald Trump prova a minimizzare la sua esperienza alla Fordham ed enfatizza le sue ultime esperienze poi andò all'università della Pennsylvania e studiò due anni di economia quindi lui frequentò una scuola gesuita molto interessante è un fatto ora torniamo ancora da Mark Pence conservatore evangelico cattolico postmoderno ma Pence è proprio una creazione della vita politica religiosa americana degli ultimi 50 anni nato e cresciuto da cattolico divenne un giovane ministro ed è risaputo che volle diventare un prete ma secondo le interviste Pence abbandonò l'idea interessante lui ha negato di parlare precisamente di questa sua evoluzione spirituale mentre era nel college dal 1978 all'81 iniziò a miscelare il suo cattolicesimo con il protestantesimo evangelico mi sono impegnato con Cristo dice Pence sono un evangelico cattolico rinato quindi abbiamo un vicepresidente cattolico che è in una posizione per raggiungere gli evangelici è affascinante che dall'altra parte scelsero Tim Kaine come vicepresidente e i due hanno dibattuto e apparentemente Mark Pence era il più forte nel dibattito così dicono almeno comunque non fa differenza perché entrambi sono due persone cattoliche e vediamo cosa ci dice la Harvard Divinity School su Tim Kaine Mark Pence e la fede dice Kaine studiò alla scuola superiore gesuita e la sua vita è stata influenzata dei gesuiti spesso visto come una mente aperta e progressista negli Stati Uniti venne chiamato un cattolico di Papa Francesco cosa significa essere un riformatore liberale cattolico ora è affascinante abbiamo questi cattolici importanti come vicepresidenti uno voleva diventare un prete e l'altro che è stato adestrato in un ambiente gesuita è interessante che gli stessi gesuiti dicono o Ignazio Laiola dice che se devi scegliere una parte allora il gesuita può scegliere una parte e rappresentarla fino alla morte mentre un compagno gesuita sceglie la parte opposta e la difende fino alla morte questa è dialettica hegeliana ed è affascinante come funziona non importa veramente chi dei due diventa vicepresidente e non importa chi dei due diventa presidente prima di parlare di questo penso che Hillary Clinton calza il profilo moderno un po' meglio ma non è importante chi dei due vince ma ora riflettendo diventa interessante nella discussione su queste persone di Harvard il candidato vicepresidente di Donald Trump governatore Mike Pence si descrive come un evangelico cattolico rinato questa miscelazione di fede è inusuale e cosa dice questa combinazione riguardo il suo pubblico servizio la risposta non sono sicuro cosa dice il governatore Pence quando afferma essere un evangelico cattolico rinato proviene da un'esperienza cattolica irlandese e crebbe in questo modo durante il college ebbe un'esperienza religiosa evangelica sotto l'influenza di un gruppo senza denominazione comunque nel corso degli anni si considera ancora un cattolico va alla messa operò come giovane ministro nella chiesa cattolica e pensò anche di diventare prete comunque alla metà degli anni 90 entrò nella chiesa evangelica della grazia affiliata con la libera chiesa evangelica americana può essere descritta come una denominazione battista comunque fu la chiesa con cui iniziò a portare la sua famiglia in Indianapolis in quel momento si descrive come un repubblicano cristiano conservatore in questo ordine in questa descrizione manca la parola cattolico quando guardiamo a questi due entrambi possono adempiere il programma profetico papa francesco chiama all'unità sia gli evangelici i cattolici e dice che la divisione è l'opera del diavolo quindi devono essere uniti quindi pens è l'uomo perfetto lui è sia cattolico ed evangelico e può unirli papa francesco chiama all'unità tra i cristiani evangelici e cattolici delle altre denominazioni evidenziando che siamo uno in cristo e avvisando che la divisione è l'opera del diavolo la divisione è l'opera del padre della bugia il padre della discordia che ha fatto tutto il possibile per tenerci divisi disse francesco in un video messaggio ad un raduno sponsorizzato dal movimento giovanni 17 il movimento giovanni 17 deve radunare tutti gli evangelici sotto un ombrello del papato assieme col papato carisma news ci dà informazioni interessanti ci dice che kenneth copland impone le mani su donald trump e prega per lui è affascinante carisma news è un giornale influente all'inizio del mese dicemmo come paola white organizzò un incontro tra il candidato alla presidenza repubblicano donald trump e i pastori evangelici l'incontro è questa settimana e qui ci sono molti pentecostali per imporre le mani al miliardario fare dichiarazioni sulla sua vita e pregare oltre paola white c'è anche kenneth e gloria copland e poi tante altre guide evangeliche molto importanti dove si va si va verso l'unione di chiesa e stato chi è donald trump bene guardiamo religion news dice donald trump è un cristiano rinato quando leggo quello che dicono i cristiani su donald trump sulle sue frasi quelle dichiarazioni contro le donne le dichiarazioni selvagge non ebbero piacere e ora dopo tutto stanno cercando di unirsi per risolvere il problema donald trump si descrive come un presbiteriano e protestante una persona di chiesa della domenica cosa molto affascinante ed un collezionista di bibbie ora si presume che il candidato repubblicano alle presidenziali possa aggiungere rinato cristiano a quella lista secondo uno dei membri del comitato consultivo evangelico di trump qui abbiamo un protestante che segue la domenica ora se volete raggiungere la comunità religiosa e unirli non sarebbe interessante se i protestanti raggiungessero i cattolici e i cattolici raggiungessero i protestanti questo sarebbe il giusto mix ma l'ho trovato un miscuglio interessante perché dalle dichiarazioni è difficile immaginare che tutto ciò sia una perfetta verità questa è la dichiarazione fatta da donald trump al mondo cattolico i cattolici sono una parte importante nella storia americana l'america si è rafforzata con i lavoratori cattolici da new york alla california la storia cattolica è una grande unica storia dai diritti civili all'educazione dei bambini servendo i poveri nel movimento per la vita il clero e i laici cattolici hanno contribuito immensamente al successo americano e al successo della storia americana i politici di washington sono stati ostili alla chiesa sono stati ostili ai cattolici sono stati ostili ai membri del cattolicesimo la mia amministrazione sarà fianco a fianco con i cattolici americani per promuovere i valori che condividiamo come cristiani e americani dio vi benedica e benedica gli stati uniti d'america rendendola di nuovo grande eccovi donald trump che raggiunge la comunità cattolica un protestante un protestante rinato in altre parole abbiamo mike pence che dice di essere cristiano conservatore e repubblicano in quest'ordine escludendo il piccolo fatto che fu pienamente cattolico sentiamo cosa dice salve sono mike pence è un onore che quest'anno servo la nomina repubblicana col candidato donald trump vi raggiungo solo col video ma non sono sicuro di come presentarmi preferisco presentarmi brevemente sono un cristiano un conservatore e un repubblicano in quest'ordine oggi mi fa piacere parlarti amico credente tutti hanno storie diverse sul come trovarono la fede io crebbi in una famiglia dove la fede era importante la domenica in chiesa e preghiera prima di mangiare ma la fede divenne mia quando decisi di seguire Cristo nel primo anno in college quella notte il mio cuore si rupe interamente con gratitudine e felicità quando capii cosa accadde alla croce in qualche piccola misura accadde anche a me so che tutti voi nella stanza avete la stessa passione e gratitudine per quello che fu fatto per noi anni dopo la mia fede fu provata in tantissimi modi so solo che oggi ne ho bisogno più di prima è il centro della mia vita e della mia famiglia come sempre l'amore di Dio nasconde i nostri fallimenti lungo la storia è stata fonte di rinnovamento e forza per questa nazione e per la gente in questi tempi difficili credo siamo ad un punto di svolta quando coloro che curano la fede la libertà la santità della vita e tutte le libertà nella nostra Costituzione devono avanzare e rispondere per agire mi sono aggiunto con Donald Trump perché credo che sia una giusta guida e una giusta visione per rendere l'America ancora grande il presidente Donald Trump metterà giustizia alla Corte Suprema che sostiene la Costituzione e i diritti dei non ancora nati Donald Trump farà delle leggi che libereranno la voce della fede in tutta la nazione revocando l'emendamento Johnson l'emendamento Johnson è stato nei libri dagli anni 50 se dal pulpito si parla di importanti problemi nazionali viene tolta l'esenzione delle tasse alle organizzazioni o alle chiese io e Donald Trump ci impegniamo a operare con la maggioranza repubblicana del Senato per revocare l'emendamento Johnson una volta per tutte la verità è che dopo uno studio attento della storia americana mostra che la forza viene dalla comunione della fede attraverso tutta la storia è stata la voce della fede che ha guidato la nazione ad una unione perfetta furono i pulpiti dei fondatori americani che combatterono contro il re Giorgio dai pulpiti si parlava della schiavitù malvagia terminando la schiavitù in America anche attraverso il conflitto civile fu la voce della fede e le comunità che trasformarono la nazione attraverso il movimento dei diritti civili durante il tempo della nostra vita ed eravamo una nazione migliore oggi per tutti noi la scelta non può essere più chiara non ho mai visto una scelta più drammatica nelle elezioni nazionali credo che arriviamo al tempo di scegliere e penso che sia tempo per la vita della nazione quando la gente che cura la vita la libertà quando la gente che cura le grandi tradizioni della nostra costituzione dovrebbe unirsi e sostenere Donald Trump e il nostro programma per far grande l'America ancora una volta in questi tempi difficili qui e all'estero tempi di sfide per le famiglie americane vi incoraggio a fare anche un'altra cosa ed è di abbassare il capo e inchinarci nei giorni restanti di questa elezione pregate per la nostra nazione ma quando lo fate pregate come pregava Lincoln non che Dio sia dalla nostra parte ma che noi nelle sue parole siamo dalla sua parte perché credo veramente che quello che una volta era vero lo è ancora oggi se la sua gente da lui chiamata si inchina e prega che operi come ha sempre fatto lungo la storia di questa nazione ci sentirà dal cielo e guarirà la nostra nazione questa nazione sotto Dio indivisibile con libertà e giustizia per tutti grazie per darmi l'opportunità di parlare oggi che Dio vi benedica voi e famiglia questa comunità di fede le vostre chiese e che Dio possa continuare a benedire l'America un discorso così non farebbe andare il pendolo dall'altra parte penso potrebbe qual era il gancio che nessuno può vedere che può vedere solo il negativo e l'unione del liberalismo oggi con il disastro che lo segue e c'è questa speranza che il pendolo vada dall'altra parte abbracciando la promessa di una terra guarita una società guarita e se ci fosse una freccia dentro una nuova America Trump dice di annullare l'amendamento Johnson che imbrigliava i pastori durante il suo discorso di accettazione Trump ringraziò la comunità evangelica per il loro sostegno aggiungendo avete molto da dare alla nostra politica ma la legge non vi fa dire quello che pensate dai vostri pulpiti un amendamento fatto da Lyndon Johnson molti anni fa minaccia le istituzioni religiose con la perdita delle esenzioni delle tasse se parlano apertamente delle loro visioni politiche lavorerò molto per revocare quel linguaggio e proteggere la libertà di espressione per tutti gli americani vi riporto all'inizio di questa lettura cosa disse JFK credo in un'America dove nessun papa e nessun prelato protestante dirà come votare qui abbiamo un uomo che dice che revocherà il più vicino possibile che rende loro impossibile di farlo chiesa e stato si stanno unendo il clero sta comandando i votanti visioni che libereranno i valori della cristianità se i valori della cristianità fossero innalzati sarebbe una bella cosa ma se ci sono certe leggi in quel pacchetto le leggi della prima bestia che il mondo protestante ha identificato come l'anticristo e quando si eseguono queste leggi negano la legge di Dio la Bibbia dice loro hanno abbandonato le tue leggi ed è tempo di agire viviamo in tempi molto interessanti ora politico dice il consiglio di commissione evangelici di Trump comprende Beckman e Falwell abbiamo un consiglio di commissione che suggerisce le linee di condotta cosa dice ora JFK dove nessun prelato protestante o papa dirà al presidente americano cosa fare ora abbiamo una mistura delle due che fanno proprio questo favorirà la prima bestia il cattolicesimo vediamo questa è la lista intera della campagna non li vedremo tutti solo uno o due e vediamo dove ci porta Michelle Beckman donna del congresso Bernard pastore anziano e direttore del centro culturale cristiano Bern Tim Clinton e c'è Kenneth e Gloria Copeland queste sono persone che hanno dichiarato cose in passato che sono incredibili se le confrontate con la Bibbia e c'è James Dobson autore psicologo e abbiamo Jerry Falwell presidente della Liberty University c'è Ronnie Floyd e Jack Graham e molti altri Robert Jeffress David Jeremy Richard Land James McDonald Johnny Moore questo è il team al completo James Robinson fondatore di Life Outreach International Tony Suarez vicepresidente esecutivo conferenza cristiana delle guide nazionali ispaniche Jay Strzak Paula White Tom Winters Cilly Yates questo è interessante e cosa dice Donald Trump di loro? Ho un rispetto e ammirazione tremendo per questo gruppo e voglio continuare a parlare dei problemi importanti con gli evangelici e tutti gli americani e quando sarò presidente implementerò tutte le soluzioni che hanno senso disse Donald Trump della sua lista che include la donna del congresso Michelle Bachman ora vediamo uno o due in quella lista nel 2014 un gruppo di evangelici fu portato fu portato in Vaticano da Tony Palmer ora morto e lì si strinsero gli uni con gli altri affinché gli evangelici e i cattolici potessero riunirsi di nuovo fu in quell'occasione o proprio prima dove il Papa mandò un messaggio a Kenneth Copeland e Kenneth Copeland mentre parlava in lingue e lì ci furono tante altre guide evangeliche che strinsero il messaggio del Papa Papa Francesco incontra il televangelista Kenneth Copeland e James Robinson entrambi sono nella lista è affascinante questa gente andò a Roma per discutere la riunificazione e questo evento diventerà molto importante nel 2017 dove il mondo luterano celebrerà il suo cinquecentesimo anno della riforma protestante questi sono i problemi del giorno The Christian Post dice pastore di megachiese Jack Graham pronto per difendere Donald Trump dopo l'incontro con novecento evangelici è anche uno di loro che andarono dal Papa precedente Presidente dell'Accordo Battista del Sud e pastore di megachiese dice che è pronto a difendere Donald Trump dopo l'incontro tra la presunta nomina repubblicana e più di novecento pastori e attivisti evangelici in New York City il martedì da una parte questa gente sono consiglieri del Presidente per portare questo cambiamento e rendere ancora grande l'America dall'altra parte sono coloro che negoziano col Papato per la riunificazione infatti è esattamente quello che Donald Trump promette di fare Donald Trump promette di avvicinare la distanza tra Chiesa e Stato secondo il Time e dice che i candidati presidenziali GOP sono tre volte giù con una base di sostegno politico che è fermamente rimasto con lui voti bianchi ed evangelici con la promessa di smantellare le leggi che separano la Chiesa e lo Stato dice cose molto affascinanti se guardate cosa succede alla religione se guardate cosa accade alla cristianità se guardate al numero di persone anche gli evangelici lo sanno non è in questo tipo di salita è in questo tipo di salita lenta e costante nella direzione sbagliata disse Trump molto di questo riguarda il fatto che siete rimasti in silenzio siete rimasti in silenzio come i bambini avete la possibilità di fare qualcosa che farà tremare il mondo dice dico davvero tremare il mondo dovete far votare la vostra gente queste sono le promesse di Donald Trump proprio le promesse di cui parla la Bibbia un evento che fa scuotere la terra che farà intervenire Dio negli affari umani entrambi Donald Trump e Pence dicono che hanno cura della domenica perché è parte della loro eredità e gli ricorda l'infanzia nel Boston Globe l'Alleanza del Giorno del Signore dice l'Alleanza del Giorno del Signore fondata da sei protestanti importanti nel 1888 trovo questa data così affascinante spese un secolo per combattere a forzare gli industriali per dare ai lavoratori tempo per i servizi religiosi per proteggere le leggi blu la legislazione per la legge domenicale ma pian piano il bere lo sport le spese furono permesse la domenica in questi ultimi vent'anni il gruppo si è spostato per difendere un riconoscimento interno del giorno di riposo il punto è dove può una società stressata trovare rigenerazione e rinnovamento dice il reverendo Rodney Peterson direttore esecutivo del gruppo che ha attirato decine di persone per una conferenza interconfessionale sull'osservanza del riposo nella chiesa Old South in Copley Square questo fu riportato sul Boston Globe il 2 novembre 2016 questo è un programma evangelico per riportare di nuovo la domenica al pubblico e qui abbiamo i candidati io credo che sono in una posizione e che hanno il potere di farlo perché per la prima volta i repubblicani controllano entrambe le case questa è una delle più potenti presidenze che gli Stati Uniti abbiano mai avuto e se ci fosse un'opportunità di portare lo scenario profetico ora non dico che accadrà dico che è possibile che accada Apocalisse capitolo 13 verso 15 e le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì che tutti coloro che non adoravano l'immagine della bestia fossero uccisi questo è il tempo in cui la profezia si adempirà solo il tempo lo dirà sottotitoli e doppiaggio Carlo Fanni a